Mi devo ricordare il premio al pulsante. Il primo è il primo è il primo è il primo. dai 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 ragazzi uno posa posa come ce lo hai? non lo ricevono dai 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 NORBI grazie A me mi era sembrato male, a me mi era sembrato male, lui mi ha portato avanti due due piccoli, a me mi era sembrato male a farlo. Siamo attenti dietro, dietro, bravo, siamo attaccati all'uomo. Prova, prova cazzo, prima, 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 eccolo, eccolo, oh no sono gli altri, non c'è uno lì che tira, ha sbattuto. Angolo è! Angolo è! Angolo! 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 Gli saluti! Gli saluti! Guarda che roba ora, non c'eravamo un'occasione più. Guarda che cuore ragazzi, guarda che l'azzo è calmo. Guarda che cuore ragazzi, guarda che cuore ragazzi, guarda che cuore ragazzi. 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 bravo la distanza la vita è un centimetro c'ha le gambe corte come cazzo fa fa dai c'era tantissimo dai ragazzi dai dai calma calma gira gira non buttare non buttare è bello è bello cazzo